Ritornano puntuali le offerte estive di Railway. Per il 2013 sono oltre 20 le offerte per trascorrere il proprio tempo libero in Ticino, approfittando fino al 20% di sconto sul viaggio con i mezzi pubblici e sulla prestazione supplementare. Le offerte, valide dal 1 marzo al 31 ottobre 2013, sono presentate in un prospetto informativo disponibile presso tutte le stazioni FFS. E' ormai una piacevole consuetudine, con la bella stagione arrivano anche le offerte estive per il tempo libero di Railway FFS. Ce n'è per tutti i gusti, per gli appassionati di cultura una visita ai castelli di Bellinzona, per chi ama la natura un'escursione lungo il sentiero degli Alpi Bedretto e per chi invece ha la ricerca di un'esperienza particolare, una visita alla Falconiera di Locarno. Ogni anno poi si aggiungono sempre nuove e appassionanti proposte, numerose quelle per l'estate 2013. Si può fare un salto il sabato mattina al tradizionale mercato di Bellinzona, con i suoi prodotti freschi della regione, certamente un luogo d'incontro e di piacevole conversazione. Per gli amanti della montagna invece due nuove allettanti proposte, il centro pro natura Luco Magno di Acqua Calda, a 1750 metri di altitudine, uno speciale angolo di Ticino tra boschi e paesaggi incontaminati e il Sasso San Gottardo, luogo mitico tra impressionanti gallerie e caverne rocciose. Da giugno 2013 sarà inoltre possibile tuffarsi e rilassarsi nel nuovo acquaparco Splash Spa Tamaro a Rivera, un impianto unico nel suo genere in Ticino, con scivoli, imbuti, piscine termali, piscina a onde e spa. Fare una gita nella preistoria e scoprire i dinosauri che vissero in Ticino nell'antichità, grazie al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio. E per finire, per staccare la spina lontano dalla frenesia, ci si può regalare una giornata sul lago di Lugano, immergendosi in un'atmosfera decisamente rilassante tra il blu del lago e il verde dei pendii che lambiscono le rive. La festa delle Camelie a Locarno, dal 20 al 24 marzo 2013, segnerà l'inizio della stagione estiva in Ticino. La rassegna internazionale che si svolge ogni anno al Parco delle Camelie di Locarno fa esplodere la primavera tra colori e profumi che lasciano a bocca aperta. Anche quest'anno Railway propone un'offerta combinata, uno sconto del 20% sul biglietto del treno e sull'ingresso della rassegna. Le offerte combinate, i viaggi con i mezzi pubblici abbinati a prestazioni supplementari come entrate, risalite, buone consumazioni, possono essere acquistate nelle stazioni FFS, ai distributori automatici, oppure online sul sito ffs.ch. slash acquistare online.